L'eliminazione di LDA nel corso dell'ultimo serale di Amici 21 ha lasciato tutti sbigottiti. Le talpe del web, infatti, hanno sbagliato le anticipazioni facendo il nome di Nunzio come possibile eliminato della puntata. Proprio per via delle soffiate e farlocche girate sul web, i telespettatori sono rimasti sbigottiti appena Maria De Filippi ha fatto il nome di Luca. Nunzio compreso che ha affermato di non meritare di rimanere nella scuola del talento. A distanza di alcune ore, così come riportano i colleghi di Mondo TV 24, Ilaria D'Alessio, sorella di Luca, è intervenuta sui social per commentare la sua eliminazione. Grazie a tutti davvero per i messaggi che mi state mandando su Luca. Noi siamo super orgogliosi e fieri del percorso fatto. Abbattere i pregiudizi forse è stata la sfida più grande e in questo caso anche riuscita, fatemelo dire. Dato il riscontro ricevuto. In bocca al lupo a mio fratello, il bello inizia ora. Ti amo con tutto il mio cuore bro. Cosa ne pensate delle parole della sorella?